C'è da commentare questa sconfitta per l'NL, insomma, quello aveva deciso di aver fatto un po' di spintere, però, insomma, forse il pareggino ci poteva essere. Sì, abbiamo creato un po' di occasioni, però non siamo cercati di segnare, tra l'altro quasi tutta la partita è in DCO, quindi, abbastanza pesante. La fine, adesso scopriremo se la partita è finita o no. E' sospeso, poi hai dato tre fischi, quindi non si capisce. Peccato, perché aveva fatto un'attività, non si adottava, quindi... Cioè, per sapere, non si adottava, ma forse il pareggio poteva starci. Guarda, mi convenia di questo, già perché è già il Carasco, si è entrato poi... E' una bestia! E' una partita! Sì, per l'inizio è una partita difficile. E' una partita difficile. E' una partita difficile, e noi gli universali li vediamo durante la settimana. E li preveravamo molto aiutati. Noi eravamo motivati per questo libro, e li richiamo, così come ricordo di un attare, i nostri vicendici, e per il nostro organo. Ecco, è il nostro organo. Grazie.